Emerge chiaro che cosa? Che la voglia e la pretesa di sicurezza non ha colore politico. La chiedono i sindaci di destra, la chiedono i sindaci di sinistra. La richiesta è di buon senso. Chi ruba deve andare in galera, ci deve un po' rimanere, perché se riesce dopo due o tre giorni, fasi sempre rifai il reato. È di buon senso, è di buon senso esattamente nel momento in cui la applichi. Perché se da cinque anni, guarda io sono in Commissione Giustizia e le ho viste tutte, in questi cinque anni chi è al governo tra svuota carceri, indulti mascherati, depenalizzazioni, in particolare tenuta del fatto. Liberazione anticipata speciale, cioè vuol dire da 45 a 75 giorni di sconto di pena ogni sei mesi per buona condotta, questa è esattamente la negazione del principio della certezza della pena. Certezza della pena vuol dire sbagli paghi, punto. E posso utilizzare questa trasmissione per rilanciare e per chiedere e per lanciare un accorato appello al governo, alla Malpezzi, c'è una legge bloccata in Parlamento, c'è una legge bloccata in Parlamento a firma della Lega ed è sottoscritto per avere un'applicazione seria e chiara del principio della legittima difesa. Che non vuol dire armare i cittadini, ma vuol dire consentire al cittadino di poter difendere. Devo andare in pubblicità, rispondiamo dalla pubblicità. La volete approvare visto che l'avete approvata.